Dopo due anni di stop a causa della pandemia riprendono finalmente le processioni della Settimana Santa anche ad Adano. Vediamo che novità ci sono, sentiamo il vicario Foranio, Padre Stano, credo che sia importante riprendere sì ma anche consigliare alla cautela tutti. Vogliamo dire quali sono le precauzioni che dettano anche i Vescovi sia all'interno che all'esterno delle Chiese? Allora sì, l'Acei come anche l'Acesi hanno dato il loro benestare perché si possano riprendere le processioni all'esterno. Le precauzioni da prendere ci sono ancora perché il Covid non è completamente debellato. Quindi all'interno delle Chiese restano ancora all'asciutto diciamo le acque santiere, è obbligatoria la mascherina FFP2, quindi in Chiesa. Viene abolito il distanziamento, quindi non c'è più il distanziamento di almeno un metro e questo permette anche giustamente di fare le processioni, di accostarsi anche all'Eucaristia facendo la processione come si faceva prima senza che noi ministri andavamo a distribuire la comunione. Per noi è sempre obbligatoria la mascherina perché bisogna rispettare questa normativa. Poi di particolare all'interno delle Chiese mi sembra non ci sia granché. Lo scambio della pace è ancora interdetto, quello con lo scambio della mano, toccarsi la mano e quindi semplicemente con l'inchino di testa, guardandosi negli occhi è importante che non sia semplicemente un gesto di testa così. E poi di altre cose particolari no. Allora questo permette giustamente di procedere all'avvio delle processioni. I Vescovi dell'Accesi ci hanno detto che possiamo iniziare, visto che cade il decreto di emergenza del Covid, con la Domenica delle Palme. Quindi Domenica delle Palme possiamo fare le processioni da un luogo all'altro, all'interno, fuori dalla piazzale della Chiesa, andare in Chiesa, eccetera. E poi la Settimana Santa avrà le sue processioni regolari. Noi sacerdoti di Adriano ci siamo incontrati e dopo aver discusso e valutato anche alcuni pericoli che ci possono essere, alcuni rischi, ci possono essere perché i portatori dei vari simulacri giustamente sono vicini, allora che ci sia il buon senso. Però non possiamo impedire che ci siano le processioni dopo due anni, anche perché per noi in Adrano le festività della Pasqua sono molto sentite, religiosamente, quindi alimentare la fede anche attraverso questi gesti esterni è importante. Quindi abbiamo deciso di fare le processioni come si facevano sempre. In questo raccomandiamo però a tutti il buon senso e di chi porta i simulacri, di chi si accosta a fare queste processioni. Se c'è troppo assembramento la mascherina è obbligatoria perché lo stare troppo vicini, anche questo comporta ancora un rischio, non siamo fuori, dicevo, dalla pandemia. Quindi, ecco, tutto questo si dovrebbe svolgere in un modo regolare. Padre Strano, fra pandemia e guerra in corso, credo che quest'anno più che mai deve essere una Pasqua di pace. Esatto, certamente questi due momenti tragici che stiamo vivendo devono aiutarci un po' a riscoprire la pace pasquale, quel Gesù risorto che entrando nel Cenacolo dice pace a voi e vi do la pace non come la dà il mondo, che non è una pace effimera fatta semplicemente di quiete, ma è una pace che nasce dal cuore, il rispetto per l'altro, l'amore per l'altro e bisogna riscoprire questo. Speriamo che il buon Dio tocchi, lui lo fa sicuramente, ma a volte siamo noi uomini che non ascoltiamo la voce di Dio e quindi perseveriamo nel nostro egoismo, nella nostra prepotenza. Speriamo che Dio, ecco, susciti in queste persone che hanno le sorti dei popoli nelle loro mani di poter dare un momento di tregua e di giustizia, ma soprattutto di costruire la pace, perché questa guerra sta portando a molta distruzione.